Ciao a tutti ragazzi, sono Spiccicale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi faccio un video di risposta al video tag Le domande fumettistiche di un codice a barre fatto mesi fa da zero latta. Io non l'avevo neanche notato, l'ho visto oggi perché ha fatto questo video Manga World 92, che saluto, ciao! E quindi ho pensato di rispondere anche io. Ho le domande in altro computer, quindi se volto la testa è perché leggo le domande. Quindi che dire, vabbè a parte i capelli che stanno con voglia loro perché li ho appena lavati. Iniziamo subito. Domanda numero 1. Quali sono le tue copertine preferite? Mostrali se puoi. Allora, io ne ho prese alcune perché ne ho talmente tante di copertine preferite che se no non finivo più. Diciamo che ho fatto una piccola selezione fra tutte quelle che mi piacciono. Ho preso quelle che prediligo un po' di più. Non sono in ordine di preferenza, io ve le mostro così come sono. In ordine in cui me le trovo qua di fianco. Ora, assolutamente la copertina del numero 2 di Momo. Allora, di Momo io adoro tutte e quante. Te la faccio vedere intera. Ecco. Perché l'immagine continua dietro. Allora, di Momo io adoro tutte e quante le copertine perché sono veramente bellissime. Però questa qua in particolare, il blu, è uno dei miei colori preferiti. Quindi questo miscuglio di colori blu, azzurri, violetto, a me piace veramente tanto. Quindi questa è una. Poi abbiamo la copertina numero 2, c'è la copertina del numero 2 del Sailor Moonshore Story. Che a me piace tantissimo. Questo bianco mischiato a verde, giallo. Poi vabbè, l'immagine di per sé mi piace veramente tanto. Quindi questa. Poi abbiamo la copertina del numero 1 di Doll Song. Che è veramente spettacolare. Io l'ho comprato appunto attirato dalla copertina. Fra parentesi, che vi faccio vedere intera perché continua con il bianco. Vedete, vabbè, lo riesco qui così. Ok. E tratto delicato, disegni bellissimi che a me piacciono veramente tanto. Poi questi sembrano quasi eterei, queste cose qua. Questo miscuglio di sfumature rosse, bianche, magenta, nere. Bellissima. Poi continuiamo con la copertina del numero 2 di Gate 7 delle Clamp. Che a me piace veramente tanto. A parte per come è fatta, perché presenta le immagini in rilievo. E poi proprio il disegno mi piace tantissimo. A me piacciono i draghi, eccetera, eccetera. Poi vabbè, c'è una maggioranza appunto di blu, che è uno dei miei colori preferiti. Quindi anche questa. Poi abbiamo la copertina del numero 6 di Chobitz. Mi piace molto anche il rosa. E questo accostamento di rosa magenta a me piace tantissimo. È veramente molto, molto carina. Poi abbiamo la copertina del numero 3 di Piccola Dea Karin di Kogedombo. Bellissima. Questo giro di sfumature verdi, blu, gialle. La rende quasi eterea. A me piace veramente tantissimo. Poi abbiamo la copertina dell'ultimo numero di Aruhana. Anche questa. A me piacciono molto le cose sfumate. Penso che si sia capito. Questa copertina che è veramente tanto sfumata come immagini. Mi piace veramente tantissimo. Proprio bellissima. E poi ve lo faccio vedere tirandolo fuori. Poi lo rimetterò dentro dopo. Perché è una cosa che tengo particolarmente. Non vorrei che si rovinasse. Mi piace tantissimo anche la copertina del primo numero originale giapponese. del manga del Geji Monogatari. Mi piace veramente tanto. Il disegno è veramente stupendo. Poi è anche in rilievo in certi punti. Soprattutto il titolo. A me piace veramente tantissimo. Per quello ho pensato, nonostante sia un manga comunque in lingua originale, di inserirlo fra le mie copertine preferite. Ok. Sposto il manga e poi dopo quello rimetto dentro dopo. Continuiamo con la domanda numero due. Di quali serie speri facciano presto in una ristampa? Assolutamente vorrei che ristampassero Lovely Complex. Che io non ho, che vorrei recuperare. Ma so che è talmente difficile da recuperare che al momento faccio a meno. Però sì, mi piacerebbe che ristampasse la Planet, ristampasse Lovely Complex. Perché io non ce l'ho e appunto lo vorrei. Ma c'è quel famoso numero 5 che anche a Chemimas, che saluto, ciao Vale, non riesce a trovare. Quindi anche parecchi numeri si trovano a fatica. Quindi vorrei che la Planet magari, se mi state ascoltando, per favore ristampate Lovely Complex. Poi 3. Se dovessi consigliare un manga ancora reperibile, cosa consiglieresti per reperibile uguale non esaurito? Beh, ce ne sono tantissimi. Assolutamente consiglierei il giocattolo del bambini, cioè Rossana. Assolutamente consiglierei Marmalade Boy, cioè Piccoli Premi di Cuore. Assolutamente consiglierei anche i vari manga delle Clamp, perché sono veramente belli. E li consiglio veramente a tutti quanti. Oppure consiglierei assolutamente anche alcuni manga, come esempio House Club. Vabbè, Dragon Ball consiglierei assolutamente, Inuyasha, se ce ne sono veramente tanti da consigliare. Non ne ho uno in particolare che consiglierei. Io sicuramente quello che consiglio è magari di provarli anche un po' tutti, cioè magari provarli da un numero numero 2, magari non scartarli così. Però non c'è un titolo in particolare che consiglio, ne consiglio assolutamente più di uno. E come ho detto, in particolare, vabbè, i titoli che ho accennato, ma ce ne sono, sarebbero tantissimi da consigliare. Domanda numero 4. Quale albo ricordi con più affetto? Il primo che hai preso, piuttosto che quello che hai trovato per caso in una fiera, insomma, ci siamo capiti, no? Assolutamente, vabbè, quello che ricordo con più affetto, ormai lo sapete tutti, sono le situazioni di via lei. Nonché il mio primo manga, e manga che mi ha avvicinato appunto al mondo dei fumetti giapponesi. Quindi non ho niente da dire, in quanto già l'ho accennato in altri video, questo qua è stato il primo manga che ho letto, prestatomi da un'amica, e da questo sono partita con leggere e connessionare manga. Poi, 5. Quali sono le serie che hai stoppato e di cui sconsigli l'acquisto? Per far risparmiare qualcosa a chi è indeciso. Beh, al momento sinceramente non ne ho una da dire, perché comunque io sono una di quelli che prova qualsiasi cosa, magari non subito, comunque nel tempo, e alla fine non ha niente da sconsigliare. Ecco, magari, no, non l'ho stoppato, però avendola finita sconsiglio Virgin Crisis e la Mayushinjo, quello sicuro. Però non ho mai stoppato nessuna serie, perché magari non mi piaceva. Io, se la serie mi piace, lo vedo già dal numero 1, numero 2, da lì ovviamente la continuo, non la stoppo. Se proprio proprio vedo che non mi piace, magari la rivendo, però al momento non mi è mai capitato di stoppare una serie perché non mi piacesse. Poi, non andare in stand-by, 6. Ci fai una classifica delle case editrici motivandola un minimo? Allora, me le sono scritte, perché se no non me le ricordo. Allora, parto dal presupposto che fino a che non conoscevo la Flashbook, io avevo come case editrice la J-Po, però da quando ho acquistato il primo numero di Dill and the Fairy della Flashbook, quindi l'unico volume della Flashbook, la classifica si è un po' ribaltata. Allora, al primo posto abbiamo appunto la Flashbook. Perché la Flashbook? Nonostante, magari, vabbè, ho visto che fa anche volumetti con pagine a colori, però l'edizione è veramente fantastica, è flessibilissima, morbidissima, la puoi piegare come vuoi e non si rovina, ha la sovracoperta, non sempre presenta le pagine a colori, ma ha già questa sua flessibilità. La fa veramente essere una case editrice veramente ottima, a mio parere. Poi, vabbè, al secondo posto appunto abbiamo la J-Po, che è scesa di un post superato dalla Flashbook. J-Po, che comunque le sue edizioni sono assolutamente stupende. Sovracoperta, pagine a colori patinate, niente da dire, edizione che resiste. Poi al terzo posto abbiamo la GP. GP, perché anche le sue edizioni a me piacciono veramente tantissimo. Per esempio, le edizioni sia quelle con sovracoperta che quelle standard, quindi senza sovracoperta o pagine a colori, sono fatte veramente bene. Quelle con la sovracoperta, posso farvele vedere un esempio da le short story di Sailor Moon, sovracoperta, le pagine a colori sono patinate, sono bellissime, l'edizione regge ed è molto morbida. Come anche le edizioni standard, per esempio, le edizioni standard della GP o Ninja Life, ed è morbidissima, non ho niente da dire. Poi abbiamo al quarto posto la Goen. Anche la Goen, anche della Goen, mi piacciono le edizioni della Goen, magari ecco, forse sono un pochino troppo, come dire, dure, diciamo, sono un po' troppo solide per alcuni numeri, però vabbè, l'edizione mi piace tantissimo, sovracoperta, non sempre hanno le pagine a colori, però quelle volte che c'è la pagina a colori, le pagine sono veramente belle e patinate. Poi abbiamo al quinto posto la Star Comics, la Star Comics è una casa editrice che comunque presenta delle bellissime edizioni, prevalentemente standard, però ultimamente si sta cimentando anche con le sovracoperte e le pagine a colori, anche se non patinate, però sono sempre su carta semplice, sono delle belle pagine a colori. L'ho messa così in basso perché ho preferito mettere in alto magari case editrici nuove, che però sono arrivate con già delle edizioni veramente stupende. E ovviamente all'ultimo posto lascio la Planet, in cui edizioni, la maggior parte delle sue edizioni si sfracellano per conto loro, nonostante siano magari anche imbustate. Faccio un esempio, i miei numeri di Vampyr Knight, i primi quattro, nonostante siano sempre stati imbustati, si stanno sfracellando da soli. Vabbè, magari ecco a volte quelle con la sovracopertina possono sembrare delle belle edizioni morbide, che però questo è un caso veramente raro. Poi, domanda numero 7. Guardi qualche anime? Guardi anche anime. Se sì, consigliane uno che ritieni imperdibile. Valgono sia serie che opere uniche, esempio Evangelion, Akira, quindi se vuoi consigliassi una cosa che l'altra. Allora, io sì, guardo anche anime, mi piace tantissimo guardare gli anime, prevalentemente in lingua, se possibile, così mi aiuta anche a memorizzare grammatica, eccetera eccetera, comunque io studio giapponese, quindi la cosa mi torna anche utile. E ne ho assolutamente tantissimi da consigliare, a partire da quelli più vecchi, di quando ero piccola io, per esempio Piccoli Premi di Cuore, vabbè, Sailor Moon, Rossana, Giorgi, eccetera eccetera, a quegli anni 80-90, per poi arrivare anche a quelli che si facevano su MTV o comunque adesso su Rai 4. Per esempio, vi consiglio Yuyasha, consiglio Fumetal Panic, consiglio Fumetal Alchemist, assolutamente, Gintama, Evangelion, Dead Note, a me è piaciuto tantissimo l'anime di Dead Note, il manga non l'ho mai letto, perché ancora non ho avuto occasione di comprarlo, ma sicuramente prenderò la Black Edition che la Planet ha annunciato per il Luca Comics, oppure posso assolutamente consigliarvi, scusate mi sono scritta a fogliettivi qua e là, So Seno Aquarion, che facevano su MTV anni fa, che hanno rifatto un'infinita di volte, che a me piace assolutamente tanto, può ricordare un po' Evangelion, però magari la storia a me piace molto di più che Evangelion, tra parentesi, e adesso, tra parentesi, un'altra parentesi, stanno pubblicando, anche stanno trasmettendo una seconda serie di Evangelion, che ancora non ho visto, perché aspetti di avere tutti i 26 episodi, però so che non sarà per niente quanto la prima serie, che la prima serie è assolutamente favolosa. Poi assolutamente vi consiglio Puella Magica Madoka, Puella Magi Madoka Magica, dovete assolutamente vederlo, un anime veramente bellissimo, che mi ha lasciato veramente, ci sono rimasta veramente malissimo, io per il finale, proprio mi ero rimasta così, come per dire, e adesso, perché sono solo 12 episodi? E per questo ringrazio la Despota 9, e ciò per The Best 94, perché mi hanno messo la voglia di guardarlo, da mattina su Rai 4 la domenica, non riesco a seguirlo purtroppo, quindi comunque era già in mente di recuperarlo in qualche modo, e assolutamente merita di essere visto, oppure vi consiglio benissimo anche l'anime di Another, adesso sta uscendo anche il manga, siamo arrivati al numero 2 questo mese, sono 4 volumi, l'anime per il momento è arrivata alla puntata 11, verrà rilasciata la 12 martedì, che non vedo l'ora di guardarla, e l'anime mi sta veramente piacendo un botto, quindi non oso immaginare il manga. Poi, domanda numero 8, come sei diventato youtuber? Beh, inizialmente avevo già una vaga idea di fare video del genere, però non sapevo esattamente magari se farlo su libri, su film, su manga o anime, però non avevo più che altro il coraggio di mettermi davanti alla WECA, registrare il video e pubblicarlo su YouTube. Poi vabbè, ho iniziato anche a guardare altri youtubers, partire dalla Despota 9, Kiro85F, anche... a guardare anche Misao Kiji e Vale, cioè Keiko Chan, e da lì, vedendo appunto loro che facevano questi video, mi sono fatta, neanche tanto ispirare, mi hanno dato la forza di mettermi davanti alla webcam, e iniziare a girare questi video. All'inizio infatti ero molto impacciata, non sapevo bene come, però adesso mi diverto tantissimo a farli, e quindi eccomi qua. Domanda numero 9, nonché l'ultima. quella serie che nessuno ha comperato, ma che adoro e non stopperai mai. Tutti ne abbiamo almeno una, dai. non saprei, perché io non... scusatemi, amo talmente tanto le serie che ho, la maggior parte, se no non le avrei assolutamente comprate, e non saprei neanche dire quelle che io ho, e non ha nessun altro, quindi non posso entrare all'interno della libreria di tutti, e vedere, oh, questa non ce l'ha, io ce l'ho, a me piace tantissimo, quindi non avrei, non ho sinceramente una, non ho un titolo da dire in questo caso, perché non, non, non ne ho uno in particolare, ecco, diciamola così. Ok, allora ragazzi, il video è finito qua, vi lascerò comunque qua sotto nel box informazioni, tutte le domande, così se volete rispondere anche voi, potete farlo senza problemi, e il video è terminato, spero che vi sia piaciuto, e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, e buona giornata.